Chi non paga le tasse è giusto, questo dice la società, ora però che sono giusto, sono senza una lira ma c'è stato a forza un errore, c'è stato a forza un errore. Non voleva farmi del male no, è stato un piccolo errore, il minimo dei conti degli altri, ora sto parlando in tv, dice che ancora non basta, bisogna pagare di più, è stato un piccolo errore, è stato un piccolo errore. Non voleva farmi del male no, è stato un piccolo errore. Ma non posso più ascoltare questo drammatico gioco. E' caro ministro, devo svegliere la tv, la mia moglie vuole mangiare, e su questo televisore vecchio, devo subito apparecchiare, neanche il tavolo ma lasciato. Ero l'ultimo degli artigiani, e nessuno meglio di me. Come oh! Come oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.